La campionessa italiana della Trexcafredo Elisa Longoborghini conquista con una grandissima prova di forza la 47esima edizione del trofeo Alfredo Binda che si corre nel Varesotto, andando a coronare un weekend veramente spettacolare per il sodalizio italo-statunitense che dopo aver vinto ieri la Milano-Sanremo, la prima classica monumento con Jasper Steuven, aver vinto quest'oggi anche il trofeo per sempre Alfredo dedicato ad Alfredo Martini in Toscana con Matteo Moschetti conquista anche in ambito femminile il trofeo Alfredo Binda con Elisa Longoborghini, quindi veramente un weekend incredibile per la squadra in cui corre anche Vincenzo Nibali. Buon pomeriggio a tutti amici pazienti di sport e ben ritornati su Mollerino Sporciane e se ne sono qui per parlarvi appunto del trofeo Alfredo Binda, corsa del Women's World Tour, la seconda di questa stagione dopo la strada bianca, 143 km con un circuito conclusivo ripetuto 5 volte, con zona Cittiglio-Casalzuigno con la salita di Orino, 3,5 km a 4%, una corsa adatta alle ragazze resistenti in collina ma comunque dotate di un ottimo spunto veloce. Non a caso nelle ultime edizioni abbiamo avuto quattro vittorie per Marianne Voss e due vittorie per Lizzie Degnan Armistead. Nella prova di oggi abbiamo visto nella fase diciamo tra i 50 e i 25 km alla conclusione diversi attacchi soprattutto dalla Ale BTC lubiana, in particolare con Tatiana Guderzo, campionessa del mondo se non sbaglio nel 2012 e con Marlen Reusser, la fortissima Cronomen svizzera. Poi attacchi anche dalla Grupa Maev De Ge con in particolare la campionessa italiana due anni fa Marta Cavalli, anche la Liv con Roy Akers e la Keny Osram con la Bielorussia Alena Amiel Ljusik. Ma la grande selezione viene fatta sul penultimo passaggio sulla salita di Orino, sull'attacco di Catarzino a Nievi a Doma della Keny Osram. La Polacca lancia l'attacco, segue Elisa Longoborghini con anche Marianne Voss e Cecil Utrup-Ludwig, ma quando termina l'attacco della Polacca parte il contrattacco deciso della campionessa italiana. Elisa Longoborghini riesce a fare la differenza nel tratto più duro della salita di Orino, riesce subito a prendere tra i 10 e 15 secondi di vantaggio. Dietro manca la collaborazione perché essendoci Marianne Voss, la cannibale vincitrice di oltre 200 gare in carriera, dotata di uno spunto veloce veramente incredibile, una delle velociste più forti del mondo e inoltre resistentissima anche sugli strappi, diciamo che le altre non collaboravano, soprattutto Mavi Garcia che in volata è lentissima, ovviamente non aveva alcune intenzioni di collaborare con Marianne Voss, quindi la maggior parte del lavoro era sulle spalle dell'atleta olandese della Jumbo Wisma. Questo ha favorito appunto il dilagare del vantaggio di Elisa Longoborghini che man mano è salita 35 secondi, 40, 50, arrivando fino a un minuto e addirittura nel finale con appunto lo studio per poi lottare per il podio, addirittura un minuto e 42 secondi di vantaggio sul gruppo in seguitore. Dunque Elisa Longoborghini vince appunto il trofeo Alfredo Binda, la seconda prova del Women's World Tour e dopo il secondo posto fatto alla strada bianca alle spalle di Chantal Black Van den Broek va a conquistare anche la leadership del Women's World Tour. Chantal Black quest'oggi è rimasta un po' sorpresa o comunque non aveva le gambe per seguire l'attacco di Catarizino a Nieviadoma, tant'è che la SD Words e la Bike Exchange di Amanda Spratt sono state le squadre che si sono fatte più sorprendere sull'attacco di Catarizino a Nieviadoma e sono state costrette a tirare in gruppo, ma tutto è inutile perché appunto Elisa Longoborghini ma anche le inseguitrici con appunto il rientro tra l'altro di Mavie Garcia e Soraya Paladin, quindi un gruppetto con Marianne Voss, Cecilutrop Ludwig, Catarizino a Nieviadoma e Soraya Paladin e Mavie Garcia avevano ormai preso l'arco. Dunque seconda posizione per Marianne Voss che domina letteralmente la volata per la seconda posizione, a 1 minuto e 42 con Cecilutrop Ludwig in terza posizione, poi Catarizino a Nieviadoma in quarta, Soraya Paladin un altro italiano in quinta posizione, Mavie Garcia in sesta posizione, ovviamente era la più lenta del gruppo inseguitore. Poi per la volata di gruppo, gruppo che è arrivato a 2 minuti e 46 di distacco, volata vinta facilmente da Elisa Balsamo della Valcar Silence, l'atleta fortissima anche su pista, davanti un altro italiano ovvero Sofia Bertizzola della Live Racing, e completano la top 10 la svedese Emilia Fallin della Fedejeu e Florty Mackay appunto della Live Racing se non sbaglio, anzi no della DSM. Dunque leadership nel World Tour per Elisa Longoborghini, Elisa Longoborghini perché per quanto mi riguarda è la terza ciclista più forte al mondo in questo momento, anche più forte di Marianne Voss perché Marianne Voss ovviamente è fortissima, ma diciamo che gli anni migliori sembra averli dati, ovviamente è ancora un fenomeno, però ultimamente vedo veramente molto molto in palla Longoborghini, dopo ovviamente le due cannibali che quest'oggi erano assenti, ovvero Annemichemann Vleuten e Anna van der Breggen. Comunque ragazzi, direi che per questo vi è tutto, mi lasciate un commento, mi piace iscrivervi qui, comunque sono la nostra paginista e noi ci vediamo al prossimo video. Comunque ragazzi, direi che per quanto mi riguarda è la nostra pagina, comunque ragazzi, direi che per quanto mi riguarda è la nostra pagina,